Autoricambi Bartoli, specializzata nella vendita di accessori e ricambi di auto a prezzi confrontabili. Via degli Altiformi 27 a Portoferraio. Arrivano all'Elba i primi 8 milioni dopo l'alluvione del 7 novembre scorso che ha colpito i comuni di campo nell'Elba e Marciana. 5 milioni come ha annunciato gli ammessi la regione, 3 sono arrivati dal governo. E' comunque solo il primo stralcio degli interventi in quanto i danni accertati solo per le imprese e privati superano i 18 milioni di euro. E poi c'è da mettere in sicurezza le zone che rappresentano la priorità assoluta secondo il presidente della regione Toscana Enrico Rossi per limitare questo rischio in futuro. Il piano per gli interventi ammonta complessivamente a 50 milioni di euro e il Via Libera ai primi 8 milioni è arrivato con l'ordinanza firmata sabato mattina dal presidente della regione nelle sue vesti di commissario straordinario. Nel primo lotto ci sono tutti gli interventi per il ripristino di opere e strutture pubbliche distrutte o danneggiate e gli interventi di sistemazione idrogeologica a difesa degli abitati e delle coste per poco meno di 3 milioni e mezzo di euro. Ci sono poi le prime azioni di mitigazione del rischio idraulico, un milione e mezzo sui 25 previsti e 80 mila euro di rimborsi alle associazioni di volontariato intervenute per l'emergenza. Ci sono anche i primi contributi per i cittadini che hanno avuto distrutte o danneggiate la casa e le auto. Intanto l'amministrazione comunale ha già provveduto a risistemare il paese con i primi lavori urgenti. Abbiamo ripristinato le zone che erano state interessate nell'alluvione del 7 novembre, tutto il lungamare di marina di campo, è stata ripresa gli arenili, la zona di Cavoli in corso di realizzazione. Pertanto riteniamo che quelli che erano i danni, almeno quelli più evidenti, sono stati totalmente sanati. Stiamo facendo un percorso aggiuntivo per il miglioramento del sistema viario complessivo. Pertanto riteniamo che sin da ora l'Elba è sicuramente fruibile e conseguentemente invitiamo tutti a essere nostri ospiti perché è un modo per darci un segnale di vicinanza e di supporto. Il traghetto Toremar convenzionato con la regione toscana non ha aumenti tariffari e quindi l'Elba è pronta, è stata completamente ripulita e può diventare una bella meta per le vacanze di chiunque voglia.